Benvenuti in Condor. Fondato nel 1958 a Rio de Janeiro, Condor è diventato una pietra miliare nell'industria orologera brasiliana. Appartenente al rinomato gruppo Tecnos, uno dei principali produttori di orologi in America Latina, Condor si distingue per offrire orologi accessibili, tecnologici e dal design accattivante. Nel corso degli anni, il marchio ha continuato a crescere e svilupparsi, diventando un punto di riferimento nel settore orologero nazionale. La combinazione di design accattivante, tecnologia avanzata e prezzi accessibili ha reso Condor la scelta preferita di molti consumatori brasiliani che cercano un orologio di qualità senza compromessi. Guardando al futuro, Condor si impegna a continuare sulla strada dell'innovazione e della crescita sostenibile. Con un occhio attento alle esigenze e ai desideri dei consumatori, il marchio mira a mantenere la sua posizione di leadership nel mercato orologero brasiliano. La combinazione di qualità, tecnologia e stile rimarrà la chiave del successo di Condor mentre si evolve con il passare del tempo.